Musica Le parole di Ubaldo Cecilioni dopo il riconoscimento di ambasciatore Umbro dello sport nel mondo premiato a Palazzo Donini insieme ad altri 18 sportivi la storia è l'esempio di chi ha saputo trovare nello sport una strada per ripartire impegno serale per Ternane e Foligno le fere in campo per l'ultimo recupero di campionato con la Samb Falchetti che ospitano il Tolentino per la Coppa e si godono il più 5 in campionato sull'Ama Buonasera, ben ritrovati con l'informazione da TRG apertura di questo TG sportivo stasera con la cerimonia di premiazione svoltasi a Palazzo Donini dove 19 Umbri sono stati insegnati del riconoscimento di ambasciatori dello sport Umbro nel mondo tra questi Leogubino Ubaldo Cecilioni pluricampione nazionale paralimpico di judo tiro con l'arco e lancio del peso le sue parole e le immagini della cerimonia nel servizio di Roberto Barbacci Le eccellenze dello sport Umbro diventano testimonial di un'intera regione perché anche lo sport vuole la sua parte un mezzo e un veicolo straordinari per raggiungere vaste platee e raccontare la propria storia e il proprio territorio la giunta regionale di Intesa Colcogna ha voluto premiare 19 atleti e nominare gli ambasciatori dell'Umbria per meriti sportivi tra questi anche l'atleta paralimpico Ubaldo Cecilioni Eugubino pluricampione italiano nel tiro con l'arco nel lancio del peso e nel judo che ha ricevuto dalle mani della presidente Caciuscia Malini una onoreficenza che nobilita una carriera straordinaria nel salone d'onore di Palazzo Donini la presenza di familiari e tanti addetti ai lavori Ubaldo ha rivolto parole sincere che testimoniano il suo grande amore per lo sport e quanto abbia già fatto suo al ruolo di testimonia che gli è stato affidato Sì, una prestigiosa onoreficenza che ci è stata conferita eravamo diversi come eccellenze regionali dalla presidente della regione Caciuscia Marini e dall'assessore con delega allo sport Paparelli non è un traguardo come ho detto anche al momento della nomina ma è una nuova partenza per raccogliere appunto questo come uno stimolo per essere testimoni per veicolare il messaggio dello sport per raccontare la nostra esperienza dello sport perché lo sport è tanto e noi potremmo, possiamo, dobbiamo anzi e lo dobbiamo allo sport soprattutto anche per quanto lo sport ci ha dato a livello dei risultati veicolare questo messaggio della bellezza, dell'importanza di quanto lo sport è coinvolgente, di quanto lo sport è vita di quanto lo sport è benessere Io sono uno sportivo discretamente eclettico da quando è subentrato lo stato del deficit sensoriale dello stato di cecità dal tiro con l'arco all'atletica leggera del lancio del peso e poi il judo, tanto judo il judo è lo sport che non perché sia quello che pratico a tutt'oggi ma è quello nel quale più tempo e più anni ho dedicato e anche quello dove ho più vinto e dominato il prossimo impegno più vicino è sicuramente i campionati italiani del 9 giugno campionati italiani di judo della Fispic 9 giugno a Napoli la federazione ha comunicato di recente la data e quindi già possiamo avere questo come prossimo impegno agonistico Il futuro bussa alle porte ma Ubaldo, pur ringraziando familiari e amici una volta tanto si concede da una piccola ma meritatissima licenza Onestamente io il titolo da ambasciatore dell'Umbria lo dedico a me stesso perché comunque tanto a tenere l'arco sulle mani quanto a lanciare il peso nel getto del peso quanto dentro quel judo oggi ci ho messo il corpo mio e quindi la dedica da ambasciatore dell'Umbria la dedico a me stesso come disse quella volta Giacomo Leopardi Ed ora il calcio con la Serie C in primo piano e la Ternana che torna in campo stasera alle 20.30 liberati contro la San Benedettese si tratta dell'ultimo recupero che manca all'appello alle fere per rimettersi finalmente al pari con le altre squadre del Girone Gallo è alla ricerca del primo successo come tecnico vittoria che manca peraltro alla Ternana dal 2018 e che sarebbe un tocca sana anche in vista del derby di Gubbio di lunedì prossimo in posticipo sempre alle 20.30 e il Gubbio dalla sua ha ripreso la preparazione proprio mettendo nel mirino la gara di lunedì quando Galderisi potrà lanciare nella mischia il neo acquisto Ferretti sulla fascia destra della linea difensiva prevedibile la conferma in casa Rossoblu per il 4-2-3-1 puntando ad aggredire subito l'avversario difficile il recupero di Piccini mentre potrebbe tornare a disposizione Pedrelli per un impegno magari a gara in corso sull'auto di sinistra ballottaggi a centro campo e anche in avanti dove Plescia scalpita per tornare a disputare qualche minuto in gara intanto è stato designato l'arbitro proprio di questa gara del derby tra Gubbio e Ternana che sarà diretto da Maranesi di Ciampino in campo stasera alle 20 anche il Foligno in questo caso per la Coppa Italia nazionale dilettanti perché la squadra bianca azzurra è chiamata a staccare il biglietto per il prossimo turno dopo aver battuto 2-1 all'andata il Tolentino i falchetti vogliono cogliere anche l'onda positiva della vittoria in campionato 4-1 sulla pievese che ha permesso alla squadra di Armillei di andare a più 5 sul lama e vediamo su questo il servizio potrebbe essere lo scatto decisivo il Foligno soffre ma poi piega la pievese 4-1 al blasone approfitta del pari imposto dall'orvietano all'ama salendo così a più 5 dagli alto tiberini nella corsa al vertice dell'eccellenza regionale primo tempo alta allenante dei falchetti che dopo l'iniziale sprint che porta al doppio vantaggio grazie ad un autorete a un guizzo di fondi si rilassano e vengono bucati nel finale da cacciamano nella ripresa il Foligno torna a se stesso e trova le reti sicurezza con Peluso dal dischetto nel finale con Francioni Armillei non lesina qualche critica ai suoi mentre fondi guarda il bicchiere mezzo pieno a sette gare dalla bandiera a scacchi con il più 5 sul lama manca solo il colpo del K.O. è stata una partita in cui i primi 10 minuti sembrava che non c'era storia noi oltre a far gol abbiamo creato altre opportunità poi non siamo riusciti a concretizzarle poi ci siamo seduti e questo non va assolutamente bene per tutto il primo tempo la squadra non ha prodotto niente e anzi ha preso il gol del 2 a 1 poi invece il secondo tempo siamo ripartiti con l'atteggiamento giusto abbiamo concesso pochissimo abbiamo fatto il gol del 3 a 1 quindi poi dopo lì abbiamo chiuso la partita al di là dei gol l'importante è che è vincere e convincere noi lo stiamo facendo sia a Tolentino e anche oggi abbiamo disputato una buona gara abbiamo portato a casa il risultato pieno quindi andiamo avanti così ci eravamo un pochino adattati al ritmo loro siamo partiti forte il primo quarto d'ora subito siamo andati in vantaggio dopo il doppio vantaggio pure dopo ci siamo adattati un pochino al ritmo loro e abbiamo subito un paio di ripartenze però questo è normale ci sta nel calcio ci sta in un momento della stagione dove le partite sono tante e comunque ci sono anche gli avversari in campo in Serie B Perugia al lavoro per venerdì sera quando nell'anticipo di giornata ospita il Curi il Verona secondo turno casalingo di fila Nesta dovrà fare a meno di Sadik squalificato ma può contare sul ritrovato entusiasmo dopo due vittorie consecutive preziose che hanno rilanciato in zona playoff i Grifoni la piazza si coccola soprattutto Verre e Falzerano veri trascinatori della formazione intanto il perugino Cerse Cosmi torna ad essere avversario dei Grifoni infatti gli è stata affidata la panchina del Venezia dopo l'esonero di Walter Zenga le strade del tecnico Pontegiano e del Perugia però non dovrebbero incrociarsi a meno di combinazioni nei playoff perché le due squadre hanno già disputato le due partite da calendario e chiudiamo parlando di Pugilato convincente test match per il Pugilogubino classe 2003 di origine tunisine Nordinè Amana che nella categoria a 64 kg Yacht nel palazzetto dello sport di Cannara ha disputato un incontro sulla distanza delle tre riprese da tre minuti al cospetto di un avversario di tre chilogrammi più pesante maggiormente strutturato la tecnica e la velocità di Nordinè hanno però avuto la meglio il giovane Pugil seguito dal maestro Gian Mario Grassellini ha dominato tutti i tre round ora Nordinè continuerà a prepararsi per affrontare la Coppa Italia Torneo Mura che si terrà a Cascia il prossimo 24 marzo ed era l'ultima notizia di questa nostra edizione del TG Sport che torna in replica intorno alla mezzanotte vi ricordo però stasera torna anche l'appuntamento alle 23 con Sport e incontri a cura di Sergio Pioppi nel quale ci occuperemo come ogni mercoledì di calcio dilettante io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro buon proseguimento di serata